ad accento su nuccio mulè ex preside buonasera buonasera come sta a posto lei è una persona notissima gela ed è conosciuto soprattutto il suo amore per l'archeologia eppure ha insegnato per tantissimi anni scienze naturali chimica e geografia astronomica come si è svolto il passaggio da queste discipline all'amore vero e proprio per i beni culturali ma le dico onestamente che anche perché ho svolto un altro tipo di studi e poi ho insegnato materie scientifiche fino agli anni ottanta il bene culturale per me non non esisteva non mi ero posto mai un problema di archeologia di musei di chiese di quant'altro del bene culturale in genere quello che mi ha condotto a interessarmi il bene culturale è stato il fatto che avevo io uno zio che faceva l'antiquario e quindi volendo non volendo mi trovavo spesso in questa bottega e vedevo tutta una serie di suppellettili per me era allora erano semplici suppellettili che provenivano spesso dalle chiese c'erano delle persone che andavano lì a portare questi oggetti sacri spesso e venivano comperati da mio zio faceva l'antiquario però spesso chiedevo a mio zio ma e capì che quegli oggetti in un modo o nell'altro avevano una provenienza furtiva tra virgolette o quasi allora è proprio per un senso di rivalsa nei confronti di questa situazione decisi di utilizzare una macchina fotografica che avevo comperato qualche anno prima per evitare che nelle chiese in particolare avvenisse questo furto di opere d'arte di conseguenza col permesso con l'autorizzazione dei parroci mi sono messo a fotografare tutti i reperti proprio in maniera capillare delle chiese con la segreta speranza che dopo queste fotografie e relativa divulgazione del fatto che io detenevo queste fotografie non ci fosse stata più all'interno della chiesa nessuna nessun furto poi sa da cosa nasce cosa ti comincia a interessare di questo anche perché per didascalizzare le foto bisognava avere una certa cultura che non era per niente mia quindi mi sono dovuto adeguare e da autodidatta tra libri e altre cose proprio mi sono iniziato io stesso a interessarmi del bene culturale senza che me ne accorgessi quindi dalle chiese poi sono passato ai reperti museali poi sono passato alla documentazione di archivio e a quant'altro con l'obiettivo poi di pubblicizzare con delle pubblicazioni tutti questi ritrovamenti tra virgolette sempre in modo tale che le future generazioni avessero sempre presente determinati reperti e quindi da quel momento in poi ne sono cosciente nelle chiese non è successo più niente i reperti sono rimasti lì sono stati trasportati da una parte dall'altra però che io sappia non è successo niente anzi le dico una cosa quando nella chiesa di san benedetto rubarono diversi quadri io venne a conoscenza di questo furto e mi ricordo che monsignor al abiso mi chiamò e mi disse conoscendo questa situazione se avessi quella foto del quadro rubato della tela che rubarono ce l'avevo dopo una settimana la tela ritornò alla chiesa bene lei è stato in qualche modo il custode praticamente dei beni io sono il custode di tutti i beni culturali almeno di quelli che io fotografato di quelli che conosco purtroppo non di quelli che debbono essere ancora scoperti dai tombaroli quindi il materiale che ha raccolto è decisamente numeroso è stato archiviato e quindi è soggetto a pubblicazioni quando avremo modo di conoscerlo nella sua totalità nella sua trattata è difficile perché è un archivio elettronico che si riferisce a qualcosa come diverse decine di migliaia di foto anche perché quando si fanno le fotografie di un reperto di un qualcosa di interessante di un bene culturale in genere è usuale farne di un reperto farne 10 15 in modo tale che se poi quel reperto deve essere pubblicato in qualche libro in qualche pubblicazione si va a scegliere quello migliore perché tra 10 20 fotografie che fai di un oggetto qualsiasi qualunque possa essere c'è sempre una maggior parte che non è gestibile dal punto di vista dell'eventuale pubblicazione però l'archivio che ho a casa io delle chiese delle documentazioni all'interno delle chiese degli ori degli argenti delle tele e ma anche dei beni monumentali in genere delle mura di cinta fotografie di torri e quant'altro è numeroso se l'ho utilizzato molto spesso nelle pubblicazioni che ho fatto nel corso degli ultimi decenni professore ci sono scoperte storiche che senza il suo intervento non avrebbero mai visto la luce se qualche cosa di 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 nuovo l'ho ben definito in particolare andando a consultare l'archivio dell'esercito a roma e spulciando tutti quei fascicoli che si riferivano alla battaglia di gela del 10 luglio 10 11 luglio del 1943 ho trovato una cosa che è stata tralasciata da molti storici sono stato diciamo fortunato perché mi sono imbattuto in una cronologia di una serie di eventi che accaddero dalla presentazione di centinaia centinaia di nave nel golfo di gela fino alla stessa battaglia che durò due giorni la battaglia di gela mi imbattei proprio in una sequenza di eventi in cui incredibilmente lessi che una batteria costiera si era arresa perché gli americani mettevano davanti a loro ora li chiamiamo scudi umane prigionieri italiani in modo tale che la batteria costiera certamente non volendo sparare gli occupanti non volendo sparare ai propri commilitoni si arrendevano ricordo che questa scoperta apparve nel repubblica di palermo ma la cosa che a mio modo di vedere più sensazionale è quella che quando quest'articolo di repubblica fu letto da una persona di palermo mi mandò un email dicendo che il padre odiava gli americani perché era a distanza durante lo sbarco nei pressi di licata e per tutto il tragitto degli americani da licata fino a leonforte utilizzavano tranquillamente i prigionieri come scudi umani facendo arrendere e le varie postazioni delle varie divisioni che combattevano contro gli americani addirittura io poi non so potrebbe essere anche una speculazione pensai che i 12 giorni impiegati dagli americani per conquistare la sicilia occidentale arrivano addirittura fino a palermo fu dovuto grazie a questa situazione che creavano gli americani di utilizzare i prigioni italiani come scudi umane tant'è che facendo un paragone tra gli americani che raggiunsero palermo dopo 12 giorni e gli inglesi che a quanto pare non utilizzano questo sistema impiegarono più di un mese per raggiungere catania è una speculazione assolutamente legittima e ricostruirebbe in effetti lo sbarco degli americani in maniera c'è più preciso però però veda ci vorrebbero delle dichiarazioni di personaggi che allora erano in un modo o nell'altro legate a questa situazione sia militari che civili ma ci ho pensato troppo tardi quando la maggior parte sono tutti morti infatti quello che mi scrisse l'email parlava del padre morto nel 95 e che gli raccontava da piccolo questa situazione di odio nei confronti degli americani sicuramente il dato che stasera ci sta dando non è di poco conto perché significherebbe rivedere la storia e in tutti i sensi la nostra in secondo me secondo mesi anche perché negli ultimi decenni sono stati scoperti dei misfatti una pagina nera della conquista americana nella sicilia durante questo periodo dello sbarco non dobbiamo dimenticare le stragi di civili di prigionieri fatti dagli americani in particolare nel ragusano nel nisseno e in particolare a gela i primi americani che sbarcarono a gela ammazzarono tre carabinieri gente prigioniera il semplice fatto che il generale patton genna patto diede delle direttive ben precise quando vi trovate a una certa distanza mirate sulla terza e quarta costola senza senza fare prigionieri e poi fu la famigerata 45esima divisione thunderbird americana che è proprio la responsabile di questi massacri ad acate in particolare adesso ci hanno liberati sì quindi professore in che cosa consiste secondo lei a questo punto la liberazione ma che ovviamente gli alleati abbiano liberato la sicilia dal gioco nazifascista dal gioco fascista e poi salendo su da quello nazista è in dubbio gli italiani debbono ringraziare anche vale per le future generazioni sempre gli americani che attraverso un'azione di guerra hanno scacciato via i fascisti ma non solo la mia dannazione è quando si fa un paragone tra la liberazione di gela gela è stata la prima città d'europa essere liberata quindi stiamo attenti 1943 10 luglio 11 gela viene liberata la prima città poi mi rifaccio io all'anno dopo quando gli americani gli alleati sbarcarono in normandia col passare degli anni il ricordo di queste situazioni diventano delle manifestazioni che vengono date alla società e allora io mi chiedo perché questa città non riesce a fare della liberazione del 43 prima città libera d'europa un evento di portata internazionale mentre in normandia addirittura ci va pure obama ci andato ultimamente anche obama ci vanno i presidenti dell'america dell'inghilterra e di tutte le nazioni che hanno partecipato perché c'è questa differenza allora mi chiedo io ma siamo noi che non riusciamo a portare avanti questo tipo di manifestazione per coinvolgere a livello internazionale gli stati o è qualcosa che mi sfugge che ci dà questa penalizzazione che non si vuole far apparire gela come centro di questo eccezionale evento di prima città ad essere stata liberata problema è oramai è questo tra il petrolchimico che ha inguinato fino a non si sa fino a quando ancora non si sa sapere d'altro canto i tumori della gente che ci lavorava le malformazioni stanno a dimostrare che un inquinamento massiccio c'è stato e come se c'è stato poi negli anni 90 abbiamo avuto quella guerra di mafia a mio modo di vedere hanno cancellato proprio quello che poteva essere a gela il turismo ma addirittura una cosa grottelca che è accaduta e che gela va alla ribalta nazionale internazionale solamente per farti di cronaca nera faccio un paragone quando qualche lustro fa comparve quella notizia tg1 tg2 tg3 canale 5 italia 1 sulla gela come pompei perché qualcuno riuscì a far passare la notizia che crollò a gelo un portale del 1400 quando fui chiamato io da una di queste televisioni una di milana addirittura ma professore ci spieghi cos'è accaduta ma io non so nulla può darsi che mi sbagli che però portali del 1400 a gela non ce ne sono quindi non vedo io quale portale sarà crollato non possiamo più smentire perché la notizia è partita la cosa peggiore qual è stata è partita la notizia gela come pompei quindi molto negativa nei nostri confronti nei confronti della città però poi quando si cercò di smentire la notizia che non era vera è stata una bufala non l'hanno smentita nessuno e se è successo sempre così addirittura c'erano giornali regionali che su un aspetto culturale una manifestazione un avvenimento culturale con una fotografia con un articolo andavano a mettere vicino morto ammazzato è chiaro che si annullano la vicenda quindi c'è mi posso sbagliare mi posso sbagliare la volontà o qualcosa qualche situazione automatica che ogni quattro volta a gela c'è un avvenimento eccezionale passa non in secondo piano non passa per niente mentre basta che c'è un fatto di cronagallera va alla ribalta internazionale per esempio gli oricalchi che sono stati scoperti nel mare di bulala è un avvenimento di una portata eccezionale a livello mondiale si vada lei a documentare da chi è stato proposto questo ritrovamento questo probabilmente è dovuto al fatto che non c'è un ufficio marketing al comune che riesca a fare maggiore pubblicità potrebbe anche essere un ufficio marketing sta scherzando ma chi lo dovrebbe fare l'ufficio di marketing chi lo dovrebbe fare non hanno nemmeno idea di che cosa sia far rinascere il turismo archeologico o di cosa sia il bene culturale sono convinto che c'è un vangelo del bene culturale da rispettare che passa attraverso la conoscenza la divulgazione il recupero la fruizione e la tutela questo è il vangelo del bene culturale e qual è la situazione attuale dell'area museale questa è una domanda che bisognerebbe fare al direttore del parco perché perché lì la risposta molto complessa per esempio questo museo oramai è piccolo e nonostante che qualche decennio fa ci fosse stata la possibilità di acquisire il locale vicino per creare un complesso museale decente non è stato fatto niente poi insomma ci sono diversi aspetti che non vanno bene in questo museo però non vorrei assolutamente dare colpa a nessuno né tanto meno a che arriva per ultimo perché che arriva per ultimo si prende la responsabilità di tutti quelli che l'hanno preceduto e molto spesso ci si accorge che molti di quelli che hanno gestito l'area museale che poi hanno gestito pure il parco archeologico e non hanno avuto quei mezzi tali per poter realizzare una gestione decente perché al di là dei finanziamenti che hanno dato a goccia da parte della regione non c'è stata mai una disponibilità finanziaria per andare a coprire tutti gli aspetti negativi che oggi abbiamo dell'archeologia di gelo si figuri che su dieci aree archeologiche circa solamente due sono fruibili mentre le altre importanti sono abbandonate a se stesse in particolare ai tomberoli ma abbiamo tre zone archeologiche due del periodo protostorico e una romana del periodo romano una necopolo di palio cristiana abbiamo un'altra grande immensa area archeologica protostorica di sueri addirittura se si licenzisse il numero delle tombe di sueri sicuramente superrebbero quello di pantalica che è riconosciuto come il massimo sito archeologico protostorico della sicilia vogliamo parlare di bosco littorio va lì bosco littorio viene da piangere tutto abbandonato ritrovamenti del quartiere abitativo i mattoni crudi abbandonate a se stesse vogliamo parlare del sito dell'ex stazione ferroviaria ma li 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 da da piangere da piangere e la cosa che che più meraviglia e l'assenza totale della soprintendenza non c'è un qualcosa che possa invogliare le persone a dare una mano di tuta a questa soprintendenza la quale ha totalmente dimenticato le aree archeologiche ma è questo fenomeno perché perché non hanno soldi perché la regione non finanzia nessuna campagna di scavo non finanzia la tutela il recupero del bene culturale poi si ci mette pure l'ente locale il quale non spende nemmeno un euro e di conseguenza il bene culturale nel caso specifico i monumenti dell'archeologia ristagnano e l'usura del tempo poi fa la sua parte deteriorandoli e sottraendo dalla pubblica funzione al patrimonio storico professore adesso si avvicinano le elezioni quale consiglio darebbe lei data la sua esperienza alla nuova amministrazione che verrà ma il consiglio che posso dare io è solamente riferito al bene culturale ed è quello di fare più attenzione al bene culturale di predisporre dei finanziamenti fare dei capitoli ben precisi e individuare tutti quei beni culturali che possono diventare fonte occupazionale e di reddito quindi il bene culturale non è solamente un fattore culturale che ci soddisfa possibilmente in mille modi il bene culturale per me è anche fonte di reddito per la città e fonte di occupazione in particolare in questo frangente con la dimissione della raffineria di gelo quindi non solo l'ente locale stiamo attenti che dovrebbe intervenire al di là della soprintendenza e della ragione che intervengono poco e niente c'è un fattore che deve essere messo in gioco in particolare per le prossime generazioni la scuola e la scuola che prima deve insegnare alle future generazioni che cos'è un bene culturale deve far conoscere e divulgare bene culturale in modo tale che quando i giovani di oggi di età scolare vanno a diventare quadri dell'ente locale o di altre strutture della società sappiano cosa significa avere a che fare con bene culturale e quindi di conseguenza fare in modo di non far deteriorare di non far morire questo bene culturale quindi al di là dell'ente locale per me il tassello più importante è rappresentato dalla scuola e la scuola che deve fare questo lavoro di far conoscere il bene culturale locale in particolare in modo tale che la prossima generazione quando sente bene culturale si attiva in maniera adeguata cosa che purtroppo oggi non fa la scuola condina a non fare anzi addirittura si parla di abolire di abolire per esempio nelle quali si è la storia dell'arte è un omicidio è una cosa che non si deve fare anzi come era stato previsto una volta nella scuola riservare un certo numero di ore allo studio della storia locale perché sennò va finisce come 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 finita adesso per la città ovviamente vale per tutta l'italia e per tutta scuola grazie annuccio mulè